Beh ragazzi, ora sto a vedere Sky e vi faccio questo video da qua. La Fiorentina per ore sarà molto fortunata, hanno già pescato le due squadre che la andranno ad affrontare e devo dire che è andata abbastanza bene avendo beccato la Ears, che non so minimamente che squadra sia, poi non è che la Roma allo scorso hanno avuto un giro nel Defero, però la Fiorentina sicuramente può essere soddisfatta di come è andato questo sorteggio, perché c'erano squadre sicuramente superiori rispetto a quelle beccate e oltre per ora all'Ears il Basak Sheir, una squadra sì che negli ultimi anni ha sempre partecipato alle competizioni europee, ma sulla carta la Fiorentina è molto 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 più forte. West Ham, Steaua di Bucharest e Anderlecht, vedi questo è un giro veramente difficile, la Fiorentina ha evitato squadre veramente importanti, in prima fascia comunque c'erano Villareal, West Ham, la stessa viola, insomma diciamo che squadre forti, ecco no, Villareal, Shevalli e Austria-Vienna, diciamo un'altra squadra che la Fiorentina ha evitato, partizane e colonne nel gruppo D, questo è un bel girone, AZ Alcamar, Apollon, Limasol, Vaduz nel gruppo E, vediamo ora quale sarà la prossima avversaria della Fiorentina. Fiorentina, RFS, squadra tra parentesi LVA con la Fiorentina, ma che so ste squadre? Io non conosco nessuna delle, cioè ovviamente Silba Basak Sheir, che può essere una squadra insidiosa fuori casa, ma regà è arte RFS, che cosa sono? Marche dei vestiti? Regà la Fiorentina è andata veramente bene, non è che li sto percolando, anzi io ho vinto la Conference League, che è una grande competizione UEFA, la Fiorentina è tornata in Europa e sono veramente contento perché il girone è andato di lusso, potevano beccare squadre veramente, veramente più forti, anche della quarta fascia, parliamoci chiaro, quindi secondo me, cioè la Fiorentina è andata di lusso, vedete il suo girone, West Ham, Anderlecht, Silkeborg e FCSB, cos'era? Tipo una squadra storica comunque, insomma secondo me potevano andare peggio, se non aveva Praga, Kroos, Sivas, Spor, vedete? Cioè la Fiorentina secondo me è andata di lusso, parliamo di sapere la vostra qua sotto con un commento, ovviamente le opinioni sono soggettive, ma io credo che una squadra che tre squadre del genere possano sicuramente andare bene alla Fiorentina, si aggiunge il Dnipro, il Dnipro con l'Alkmar, la Pallon, insomma Fiorentina che secondo me può solamente vincere il Gione, è la favorita, visto comunque l'11 titolare che è superiore rispetto alle altre tre squadre, mi raccomando non perdetevi stasera l'appuntamento per il post partita di Lazio-Inter perché sarà veramente qualcosa di incredibile e noi ci vediamo alla prossima e comunque forza viola in Europa, no? Ciao!